Ci troviamo in piazza Plebiscito a Lanciano con Alessio Lorenzi della Taumat con il progetto DAC che va avanti. Oggi di che evento parliamo? Oggi parliamo dell'inaugurazione della bella stagione e dando il nostro mezzo incomodato d'uso al comune di Lanciano che attraverso l'assessore Paolucci userà questo mezzo appunto nell'ambito della transizione ecologica. A noi questo non può che far piacere sempre nell'ottica dello sviluppo della possibilità dell'utilizzo di questo mezzo soprattutto nella nostra area e in questo caso nell'area frentana. Oggi erano presenti anche altri amministratori di comuni ai quali voi avete già consegnato in passato questo modello? Esattamente, questo non può che riempirci il cuore perché questo significa in un certo qual modo che l'utilizzo di questo mezzo è stato apprezzato da tutte le municipalità a cui abbiamo dato appunto il DAC e oggi appunto in questa giornata inaugurale della bella stagione hanno voluto presenziare anche loro. Prima di ascoltare l'assessore vogliamo dare qualche suggerimento sul possibile utilizzo di questo mezzo qui a Lanciano così vediamo se l'assessore è d'accordo. I comuni hanno piena libertà di utilizzare il mezzo come meglio credono. Ovviamente il mezzo consente la possibilità di portare qualche peso, può portare fino a 200 kg di peso autista compreso quindi può essere ideale per il monitoraggio del territorio così come il trasporto di rifiuti e qualsiasi altro utilizzo che il comune voglia farne. Poi torniamo in conclusione da Alessio. Assessore Tonia Paolucci, allora una buona opportunità con questo mezzo per svolgere tante mansioni altrimenti impossibili da fare? Sì, per noi è una grande opportunità infatti ringraziamo la Taumat per questa opportunità che viene data al mio settore la transizione ecologica un settore all'interno del quale vengono fatti diversi sopralluoghi sulla città quindi il mezzo è idoneo proprio alla funzione da noi richiesta quindi lo utilizzeremo durante questo mese per il controllo del territorio anche e soprattutto in questo periodo in cui stiamo curando molto le aree verdi e quindi è un mezzo che è ben predisposto per questo servizio. Grazie all'assessore e chiudiamo con Alessio. Quali sono i prossimi step che coinvolgeranno la Taumat e il progetto DAC? Allora i prossimi step sono quelli che stiamo realizzando degli altri prototipi che a breve verranno anche questi omologati e quindi ci consentiranno di promuovere sempre di più questo mezzo soprattutto nel nostro territorio e farlo conoscere al pubblico. Grazie. 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 Grazie.